Superbiche Superbiche, ufficiale, Giuliano sulla Honda Lausitzring Superbiche, ufficiale, Giuliano sulla Honda Lausitzring sono tornato a un buon livello di forma e non voglio sprecare questoccasione. A una settimana dal test dellausitzring, la Honda ha deciso di dare una chance a Davide Glugliano. Il pilota romano, infatti, è stato ingaggiato per correre proprio il round tedesco del Mondiale Superbiche nel weekend del 20 agosto. A lui è stata ufficialmente affidata la CBR dello sfortunato Nicky Ailden al fianco di Stefan Bradio. Per il resto della stagione, invece, non è stata ancora presa una decisione definitiva. Molto, se non tutto, dipenderà dall'esito delle due gare sul tracciato tedesco. In caso di prestazioni positive, relativamente alle possibilità di una moto con tanti problemi, il 27enne pilota romano, che lo scorso anno aveva chiuso la sua avventura con la Ducati dopo cinque anni nel Mondiale, sarà confermato. Sono davvero contento di avere questa opportunità. Dopo il buon test della scorsa settimana, speravo di avere una chance di correre con il team e sono grato di averla ricevuta. Sono tornato a un buon livello di forma e non vedo l'ora di cominciare. Voglio ringraziare la ondata in Kate per aver realizzato questo sogno e farò il mio meglio per non sprecare questa opportunità, ha detto Julian.